Rieccoci per un nuovo video sul Milan femminile, squadra che settimana scorsa ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione che vedrà le rossonere impegnate in campionato e in Coppa Italia. Negli ultimi giorni ci si può registrare due entrate, quindi due acquisti, si tratta del difensore Julien Pigat e dell'attaccante Emeline Laurent. In uscita Sevenius è andata al Como, prima di essere ceduta però ha rinnovato con la società rossonera. Il Milan femminile dal 23 al 26 agosto sarà impegnata a partecipare alla Women's Cup insieme a River Plate, Atletico di Madrid e l'America De Cali. Le rossonere ora stanno lavorando al centro sportivo Vismara e da inizi di settimana prossima agosto si trasferiranno in Trentino per la seconda parte della preparazione. Ovviamente mancheranno le calciatrici che sono impegnate per le varie nazionali che stanno svolgendo il campionato del mondo in Australia e Nuova Zelanda.